siamo con simone campedelli e pietro metto alla vigilia del campionato italiano rally 2017 simone quali sono le tue impressioni pochi giorni prima della gara del ciocco beh ogni anno è una nuova emozione siamo molto contenti di poter disputare l'intero campionato 2017 e ci sono tante novità a partire dal nome del team che sarà orange one racing da quest'anno e la for fiesta r5 alimentata a benzina quindi questo questo cambio da gpl 2016 a benzina 2017 sempre della brc e saremo supportati ancora una volta da michelin e fra le varie novità di quest'anno ci sarà anche il mio navigatore che sarà pietro metto e dopo dieci anni con danilo fappani i primi chilometri diciamo così per me sarà un'emozione nuova sentire un nuovo timbro di voce nelle orecchie ma allo stesso tempo abbiamo fatto un inverno di allenamenti dove abbiamo preso il giusto feeling insieme siamo pronti motivati pietro ha le giuste capacità e qualità per per poterlo dimostrare quest'anno e quindi abbiamo massima fiducia in lui non troppa pressione ma siamo sicuri che farà un lavoro egregio e quindi siamo molto contenti motivati per partire pietro quindi una bella responsabilità direttamente dalle selezioni al fianco di simone campedelli certo per me è una grande soddisfazione salire direttamente sul sedile di destra della macchina da gara e non fare la stagione da riserva e simone ha voluto così e sono molto soddisfatto cercherò di dare il massimo e cercheremo e cercherò di migliorarmi chilometro dopo chilometro bene appuntamento quindi con tutti gli appassionati e i tifosi di orange one direttamente al ciocco Grazie per la visione